Benvenuti all'inchiesta Focus sulla famiglia. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. È l'articolo 29 della Costituzione italiana a sancire la centralità della famiglia nella nostra società. Da queste parole dei padri costituenti è trascorso quasi un secolo intero, un secolo che forse ha mutato il volto della famiglia italiana. E noi cercheremo di scoprire in che modo, in un percorso in quattro puntate, ci faremo aiutare da esperti studiosi e rappresentanti istituzionali. In questo percorso inizieremo dal come eravamo, come era la famiglia di ieri, qual era il suo volto. E ci aiuterà in questo primo pezzo di cammino Ferruccio Fabilli, che ringrazio per essere qui con noi. Ferruccio Fabilli, che è uno storico e un blogger di Cortona, che ha realizzato proprio degli studi sulla famiglia di fine ottocento, inizio novecento, in particolar modo sulla famiglia patriarcale, perché quando si parla di famiglia tradizionale, della storia della famiglia italiana, non si può non fare riferimento alla famiglia patriarcale. Quindi qual era la situazione a fine ottocento, inizio novecento in Italia? Le categorie, diciamo, le dividerei in due. Gli abitanti della città, con i loro vari impieghi, dal commerciante, dall'avvocato, eccetera, e la campagna. Nella campagna si può parlare di famiglia patriarcale, matriarcale, perché vedremo anche, ci sono dei ruoli molto importanti nella famiglia delle donne, e che è polinucleare. È più facile che in città fossero più piccoli nuclei e che non grandi come sono nelle campagne, perché in virtù della dimensione familiare veniva assegnato loro un podere più o meno grande, più o meno piccolo. Ecco, soprattutto riferendoci al territorio della provincia di Arezzo, del centro Italia, questo rapporto con la terra e quindi la presenza di famiglie patriarcali era molto accentuata, era, diciamo, la stragrande maggioranza di famiglie era di questa tipologia. Certamente. E dove c'era molta disciplina, specialmente, ripeto, nelle zone di campagna dove esisteva la mezzadria come contratto prevalente, la famiglia contadina era una piccola azienda, doveva essere organizzata, efficiente e rispondere chiaramente ai comandi del padrone o dei suoi delegati. E nel ciclo dell'agricoltura in tutto l'anno si doveva organizzare a secondo delle stagioni, delle coltivazioni, per cui c'era una pluralità di soggetti che entravano in sintonia tra di loro, in azione e nei determinati momenti giusti della... E quindi il capo, che si chiamava Capoccia, era un po' l'apice e anche a livello contrattuale non c'era altra figura familiare che potesse trattare con il padrone. Capoccia doveva andare lui a parlare col padrone, gli altri non erano ammessi. E lo stile di vita, naturalmente, era molto umile? Uno stile di vita che era molto graduale, però io negli studi che ho fatto, che lei accennava, ho trovato gli stati di famiglia che scrivevano i preti fino al 1860, erano una specie di anagrafe, in cui classificavano le persone, le famiglie o meglio, in comodi, benestanti, poveri e miserabili. Dunque, la percentuale dei poveri e miserabili è altissima, per rispondere esattamente alla sua domanda. Questo significa che poi è stato confermato da tutta una serie di indagini, come l'inchiesta agraria dell'Unità d'Italia, l'inchiesta Iascini, gli studi dell'agronomo Serpieri, che hanno evidenziato come, paradossalmente, nelle campagne si vivesse al limite della sopravvivenza, in larghi strati della popolazione, perché la divisione a metà del prodotto comportava, come dire, una quota sicura dalla parte padronale, mentre, un po' poco tanta, però il padrone probabilmente aveva anche più poderi, mentre il contadino doveva contare solo sulla sua produzione, poteva capitare un anno di siccità, di inconvenienti familiari, eccetera, e quella, come dire, riduzione di produzione, gli portava anche fino alla miseria, alla fame. Quindi il quadro era di famiglie molto povere, che basavano la propria sussistenza sul proprio lavoro, sui propri prodotti della terra, però, dall'altra parte, famiglie numerose. Sì, ci sono degli esempi, diciamo, estremi, per esempio, delle zone di bonifica, dove c'erano le proprietà, prima del Gran Ducato, poi dello Stato italiano, poi passate a industrie, a fattorie capitalistiche, in cui le famiglie potevano raggiungere 20, 30 persone e anche più, e all'interno di quel nucleo potevano anche non essere, diciamo, che parenti lontani, o per niente parenti. Entriamo un po' dentro a queste famiglie. Accennavamo all'inizio. Qual era l'organizzazione della famiglia? Quali erano anche i vari rapporti, le gerarchie? Ecco, ci sono due piramidi, diciamo. Uno fa capo al capoccia e l'altro la massaia, per cui ho detto patri matriarcale. Certamente con la prevalenza, diciamo, almeno formale dell'uomo, del capoccia, poi dopo si sa nelle dinamiche della coppia chi è, che comanda o meno, è sempre esistito. Dunque, nella piramide maschile il capoccia poi aveva intorno a sé alcune figure che dovevano reggere particolarmente la stalla, che era il bovaro, e la cantina, il cantiniere. Questi si dovevano dedicare particolarmente a queste attività, perché su queste erano basate, diciamo, le principali entrate, o meglio, il capitale di famiglia, perché le bestie bianche venivano considerate il capitale. E dopodiché tutti gli altri, anche fino ai bambini, collaboravano, come dire, in questa piramide di cui si diceva, per formarsi e contemporaneamente lavorare da piccoli lavori, sollevare dei pietri, portare via delle sarmenti, delle potature, poi piano piano una zappettina piccola, poi più grande. Diciamo che anche la scolarità ne subiva, perché i primi del Novecento, per quanto già ci fosse una certa obbligo di scolastico, però la statistica porta che fino alla seconda, terza elementare è abbastanza frequentata la scuola, più su diminuisce molto la statistica. Nel gruppo delle donne c'era la massaia, come si diceva, che accudiva all'economia domestica, quindi il mangiare, il vestire, e però organizzava anche le attività delle donne, che riguardavano il lavoro esterno nei campi e riguardavano l'educazione dei figli. Era la massaia che determinava l'educatrice del figlio, che poteva anche non essere la mamma stessa, ma un'altra, una zia, una più adatta all'educazione dei figli. Oppure quella meno valida al lavoro nei campi, perché il lavoro nei campi per le donne e per gli uomini era faticoso, cioè pochi mezzi meccanici, molta mano, falce, zappa, vanga, cordici. C'era uno stile di vita abbastanza anche duro, difficile, in cui mi sembra di capire che però il concetto di condivisione e anche di solidarietà interna fosse importante. Era obbligatorio, cioè questo era un lato sentimentale solidaristico, ma vigeva la regola della severità, cioè nel senso che ognuno doveva stare al suo posto, rispettare i propri compiti ed essere efficiente. Per questo che nel momento in cui la famiglia contadina ha potuto avere altre opzioni, si è sfasciata nel giro di 20-30 anni, una cosa che è durata millenni, improvvisamente, perché la tensione era molto alta. Chiaramente perché di fronte alla modernità, di fronte all'opportunità di avere uno stile di vita magari migliore, la famiglia patriarcale con lo stile contadino è venuta meno. C'era anche una questione di reddito, che paragonando il reddito industriale o impiegatizio, oppure anche quelle donne che andavano per servizio, o anche gli uomini che andavano in città a fare i domestici, erano ritenuti un attimino scala gerarchica e vivevano più confortevoli, perché il lavoro dei campi era lavoro duro, di mani, di sole, di pioggia. Accennavamo prima all'educazione dei più giovani, dei figli. Ecco, come avveniva concretamente? Si andava poco a scuola fino comunque a quando si era veramente piccoli, poi si interrompeva molto presto il percorso scolastico, poi l'educazione come proseguiva? Dunque, l'educazione noi consideriamo che è un territorio molto presidiato, diciamo, dalla religione, in cui c'è una simbiosi tra parroco, quindi la vita della famiglia, i ritmi sacrali, quindi la religione, l'educazione religiosa e contemporaneamente l'educazione al lavoro. L'educazione al lavoro chiaramente era un compito familiare che però, come dicevo, si praticava vivendola, cioè non c'era la teoria, il corso teorico, come si portano a pascolare le oche. Veniva preso un bel giorno il bambino, da qua 5-6 anni, non più, e mandato a pascolare i porci o le oche insieme ad altri ragazzi e imparava a fare questa attività. Si imparava così, a stare al mondo. A stare al mondo. E a scuola invece, come dicevo, c'era una delle donne di casa che aiutava a fare i compiti, a ripassare quello che poteva essere la lezione, ma erano parti molto marginali della giornata. Suppongo che ci fossero anche delle preoccupazioni. Noi conosciamo le famiglie di oggi, le tante preoccupazioni che devono attraversare. Quali erano le preoccupazioni di questo tipo di famiglia? Preoccupazioni intende per i figli? Della vita quotidiana che poteva presentare. Dunque, questa è molto interessante perché storicamente quando si è deciso di portare il contadino nella campagna, cioè casa, colonica e intorno al suo podere, si è creata la cosiddetta solitudine del contadino, cioè solo davanti agli orienti atmosferici, solo davanti alle disgrazie, solo davanti a reggere, diciamo, mandare avanti un'azienda. Questa solitudine ha portato molto, come dire, anche conflitti con i vicini, quindi non era tutto, come dire, solidale. Anche se nelle grandi occasioni, come erano le battiture o le vendemmi, eccetera, c'era un collegamento tra i vicini che si aiutavano, oppure collegamento tra colonie della stessa fattoria. Quindi era una sostanza solidale, però dal punto di vista formale c'era questo individualismo molto accentuato sia all'interno che all'esterno della famiglia contadina. Ognuno cercava di sgomitare anche dentro la famiglia per arrivare a fare il bovaro, a fare il cantiniere, perché erano più prestigiosi e quindi erano forse ritenuti anche meno gravosi, ma più prestigiosi senza altro. Ecco, perché comunque la famiglia rappresentava un po' la famiglia patriarcale, un universo a sé stante, un orizzonte di vita che seguiva il percorso dell'individuo per tutta la sua esistenza. In questo percorso ci saranno stati sicuramente dei momenti di festa e di dolore. Come venivano vissute dalla famiglia? Sì, diciamo che erano le occasioni del ritrovo dei parenti quando c'erano queste iniziative. E ricordo un vescovo del Settecento in politica proprio trattato queste questioni, parliamo di oltre due secoli fa, quindi c'era una sorta di pregiudizio, di sospetto da parte del vescovo che pure era da parte dei contadini, ha scritto un bellissimo lettera parinetica sullo sfruttamento del contadino, che queste occasioni fossero, come dire, un po' licenziose, un po' lussuriose, un po' di consumi eccessivi, per cui c'era questo pregiudizio. Però di fatto erano i riti che potevano anche unificare, tanto che proprio in questa lettera invita il vescovo Ippoliti ad essere fratelli da parte del padrone, perché c'erano delle costumanze che non erano più seguite. Una volta l'anno il padrone andava a pranzo con i contadini, era un'occasione per stare insieme e familiarizzare, trattare non da servitù, da schiavi, ma da fratelli. E quindi diciamo che questo elemento della festa, del ritrovo, dello stare insieme è sempre stato, come dire, un po' contraddittorio. Ecco, invece da un punto di vista politico c'era un riconoscimento della famiglia contadina, c'erano delle battaglie, delle lotte che venivano portate avanti per il riconoscimento di diritti, oppure si era soli di forte? Questo individualismo di cui le parlavo ha fatto sì che fino alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, c'erano degli scontri eventuali con il padrone, ma all'interno dell'azienda. Poi dopodiché sono nati invece e sollecitati anche da intellettuali grandi come questo Giuseppe Ippoliti, vescovo di Cortone, eccetera, che richiamava, come dire, a una certa giustizia equitativa, perché questa divisione a metà di cui le dicevo non era dal punto di vista dell'investimento, del lavoro e della resa, era ritenuto da San Bernardino da Siena quasi un patto usuraio, cioè in cui si chiede di più per aver dato una cosa. Infatti il vescovo, che era una persona molto preparata, aveva fatto anche degli studi in cui diceva che ci sono dei poteri in cui è possibile non vivere bene, ma di più con quella metà che gli tocca. Ce ne sono altri in cui bisogna sovvenire il contadino per farlo vivere, per farlo sopravvivere. E le lotte iniziano i primi del Novecento in base a che cosa? Le nuove ideologie emergenti della metà dell'Ottocento fino all'Ottocento, cioè sindacati bianchi, socialismo, anarchismo e quant'altro. Quindi la politica entra in quel periodo là. Era una famiglia in cui si riusciva a essere felici? Penso di sì. Io ho una memoria precisa, perché i miei due genitori fino a loro 30 anni sono stati contadini. Poi dopo si è sfasciata la mezzatria, negli anni 60-70 furono, come dire, allontanati, si allontanarono volontariamente, i miei scelsi lo seguitarono a lavorare come i braccianti. Però mi raccontavano che da giovani gli bastava un organetto, un qualcosa che facesse musica per essere felici, anche su un prato, sulle stioppe, dicevano loro, su un terreno scorcesso. Bastava poco. Bastava poco. E che cosa è rimasto, secondo lei, di questi valori della famiglia tradizionale italiana, della famiglia patriarcale, nella famiglia di oggi, nella società di oggi italiana? È rimasto qualcosa? Beh, è socialmente trasformato, è anche culturalmente l'invasione dei media, perché quello che ha cambiato, diciamo, la visuale del mondo, che sono stati dai fotoromanzi ai libri, ai giornali, che sono entrati nelle famiglie, soprattutto la televisione, hanno portato a una visione diversa delle cose, anche dei rapporti personali, in cui della famiglia contadina volenti o non enti, c'era la disciplina, dovevi osservarla. Poi si trovavano gli aggiustamenti con ragionamento, perché non è che fosse una cosa autoritaria, una società autoritaria, senza discussione. Io ringrazio Ferruccio Favilli per questo escursus, alla scoperta della famiglia patriarcale, ma parlare della storia della famiglia italiana significa anche parlare della storia, soprattutto della figura fondamentale all'interno della famiglia, la donna. Il ruolo della donna all'interno della famiglia è completamente mutato in questi anni. Siamo andati a scoprire come, assieme alla professoressa Patrizia Gabrielli, docente dell'Università di Siena con sede ad Arezzo. Vediamo. Nell'ultimo secolo il ruolo delle donne è profondamente cambiato. Qual era la situazione a fine Ottocento, inizio Novecento della donna all'interno della famiglia italiana? Diciamo che proprio alla fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento, segnano dei profondi cambiamenti in quella che è la condizione femminile. E dunque anche all'interno della famiglia il ruolo cambia. Cambia perché le donne cominciano ad avere accesso al mondo delle professioni, in particolare maestre, insegnanti, e quindi abbiamo a che fare con donne più colte, più istruite, più consapevoli e soprattutto, per quanto riguarda le fasce popolari, le fasce femminili appartenenti alle classi popolari, il loro lavoro diviene immediatamente visibile. Cioè da quella che era la piccola impresa familiare, il lavoro a domicilio, anche nel mondo delle campagne, iniziano ad entrare nelle industrie. Dunque il loro lavoro è visibile. Prima questo lavoro non era visibile. Ciò significa muoversi di casa tutti i giorni, uscire di casa tutti i giorni. E questo fa sì che le donne attraversino, diremmo, degli spazi pubblici. Ovviamente esse mantengono ancora un ruolo centrale all'interno della famiglia, ma soprattutto non vi è parità tra i coniugi. Saranno i movimenti delle donne, insieme a qualche deputato più attento, più sensibile anche alla condizione femminile e al tema dell'uguaglianza, a sostenere alcuni cambiamenti. Tra questi, ad esempio, l'abolizione dell'autorizzazione maritale, e cioè le donne non potevano compiere viaggi senza l'autorizzazione del marito e soprattutto non potevano disporre dei propri beni senza l'autorizzazione del marito. Ecco, nel periodo del fascismo, poi il fascismo rilancia quello che era il mito della donna come angelo del focolare. Ma l'immagine, diciamo più che l'immagine, il modello femminile che il regime propone è un modello, per certi versi, contraddittorio. Da un lato, senz'altro, l'italiana moglie e madre esemplare è una serie di misure anche a favore delle nascite, la battaglia demografica, eccetera. Dall'altra, però, uno stato totalitario, un regime totalitario, non può reggersi senza la mobilitazione, dall'alto, delle masse. Tra queste masse anche le donne, che quindi vengono sollecitate a prendere parte a una serie di attività, di iniziative. Pensiamo anche solo a un gruppo come le Massaglie Rurali che in qualche modo sollecita l'uscita delle donne dallo spazio domestico, dall'aia, dall'orto e organizza una serie di attività anche nelle città, forse organizzano gite, viaggi culturali destinate alle donne delle campagne. Non che il fascismo voglia, certo, l'emancipazione delle donne, però, per certi versi, quello che è il suo progetto di stato totalitario sollecita le donne ad uscire dalle mura domestiche. Qual è la condizione, però, di fatto, delle donne durante il fascismo? Ripeto, non si può parlare né di emancipazione né di diritti, ma questo vale per gli uomini e per le donne e soprattutto le donne delle fasce popolari vivono in una condizione di forte soggezione nei confronti del marito e anche da parte dei figli, degli stessi figli, non c'è poi questo grande riconoscimento del ruolo materno. È una figura schiacciata, sottomessa. C'è un film bellissimo che vale la pena citare a proposito ed è una giornata particolare di Ettore Scola dove la figura di Antonietta è per certi versi una figura emblematica, la figura che rappresenta la donna popolana che rappresenta la condizione di tante altre donne italiane. Durante invece la fase della liberazione le donne hanno avuto un ruolo attivo che forse però la storiografia ufficiale non ha riconosciuto. Sì, questo senz'altro il ruolo attivo è stato negli anni della guerra, della resistenza, hanno attivato una serie di strategie anche di resistenza contro il nazifascismo non sempre armate ma basandosi su quelle che sono le virtù quotidiane. Insomma, quindi una serie di azioni volte alla salvaguardia di se stesse, della propria famiglia, della comunità di appartenenza. Azioni minute. si pensi a quanto le donne hanno fatto rispetto ai soldati sbandati dopo l'8 settembre per proteggerli dai rastrellamenti eccetera. Qua dalla deportazione una serie di azioni e di misure a favore degli ebrei li hanno protetti nascosti nelle proprie case e ne potrei citare tanti altri. Poi ci sono state donne che hanno partecipato alla resistenza politica organizzata anche in armi. Con la fine della seconda guerra mondiale c'è un altro passaggio fondamentale con il referendum del 2 giugno 1946 c'è per la prima volta il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Che cosa cambia per le donne italiane questo nuovo diritto? Le italiane ottengono diritto di voto con un decreto emanato dal governo Bonomi datato primo febbraio 1945. sarebbe un errore pensare che si sia trattato di una sorta di concessione dall'alto. C'è stata una forte mobilitazione femminile dalla fine del 1944 ai primissimi mesi del 1945 proprio per ottenere questo diritto. Certo è cambiato molto perché le donne sono entrate nella sfera politica hanno ottenuto diritti di cittadinanza. questo diritto di voto era stato decisamente avanzato riclamato da movimenti femministi nei primi anni del Novecento e negato mentre se l'erano visto riconosciuto donne di altri paesi di altre realtà soprattutto dopo la Grande Guerra quindi per le italiane è un passo in avanti anche perché riescono a far sentire la propria voce all'interno delle istituzioni. penso soprattutto all'Assemblea Costituente dove sono state elette 21 donne su 556 membri quindi si potrebbe dire una presenza esigua o debole ma la loro voce fu tutt'altro che debole perché riuscirono a far passare nel dettato costituzionale la piena parità di diritti tra uomini e donne questo l'articolo 3 e poi in altri articoli penso all'articolo 29 penso all'articolo 30 e all'articolo 37 che in particolare riguardano anche le relazioni interne alla famiglia e il tema della famiglia è centrale nel nostro dettato costituzionale così come nelle costituzioni che nascono maturano a ridosso della seconda guerra mondiale ecco lì è affermata una piena parità tra coniugi bisogna però dire che il dettato costituzionale in particolare ma non solo in particolare sottolineo per quanto riguarda il genere è stato applicato con molto molto ritardo di fatto questa parità non c'era se pensiamo che fino al 1981 era contemplato il delitto d'onore quindi i passaggi sono stati molto lenti vi hanno concorso una serie di fattori innanzitutto i cambiamenti della società italiana su un piano diremmo strutturale e penso in questo caso al grande passaggio degli anni 60 gli anni che vengono definiti del boom economico quando noi abbiamo non soltanto l'avvento della società dei consumi ma un cambiamento sostanziale della mentalità delle culture il tema della parità comincia in qualche maniera ad affermarsi tra fasce molto ampie della popolazione ci sono stati i movimenti delle donne che in passaggi diversi della storia dell'Italia repubblicana hanno avanzato questo tema appunto della parità anche in seno alla famiglia se devo citare una data che può segnare una forte periodizzazione rispetto a questo tema senza alcun dubbio è il 1975 quando viene promulgato il nuovo diritto di famiglia che afferma una piena parità giuridica ma anche sostanziale tra i coniugi e quindi abbiamo visto come eravamo abbiamo visto la famiglia patriarcale il ruolo della donna e i diritti che sono cambiati e oggi che cos'è oggi la famiglia italiana se c'è un tema per parlare di famiglia oggi è certamente quello della crisi demografica perché la famiglia di oggi la famiglia italiana di oggi è certamente sempre più anziana e con pochi figli ne parleremo assieme a Luciano Bozzo che ringrazio per essere qui con noi docente di relazioni internazionali della scuola di scienze politiche Cesare Alfieri dell'università di Firenze presidente del corso di laurea magistrale relazioni internazionali e studi europei che magari poi magari sul concludere l'intervista sulla chiusura dell'intervista faremo una domanda anche proprio su questo corso di studi partiamo quindi dai numeri però in termini numerici come sta cambiando la famiglia in Italia la famiglia in Italia sta cambiando molto e molto velocemente detto in una battuta gli italiani non si sposano non fanno figli invecchiano e naturalmente muoiono perché questo è inevitabile con tutte le conseguenze del caso ecco primo dato un calo costante nei matrimoni sia a livello civile che religioso sì i matrimoni sono calati in maniera in misura impressionante qualche dato di fonte istat tanto per essere precisi nel 1998 i matrimoni religiosi erano più di 219 mila annui e quelli civili 60.453 per un totale di più di 280 mila matrimoni a distanza praticamente di una ventina d'anni siamo ormai a 106.333 matrimoni religiosi sono aumentati quelli civili a 88.000 il totale di 194.373 è molto interessante il dato sui matrimoni religiosi che sono letteralmente precipitati cioè sono meno della metà nell'arco di praticamente 19 anni i dati quindi parlano molto molto chiaro eravamo il paese delle famiglie patriarcali come siamo arrivati a questo punto quanto è rapido è stato questo cambiamento il cambiamento è stato rapido perché appunto come ho appena detto nel giro di un ventennio quasi c'è stato un crollo dei matrimoni e come possiamo vedere lo vedremo tra un attimo c'è stato anche un crollo nel numero medio di figli per donna fertile quindi nelle nascite il cambiamento naturalmente è il frutto di un grosso di un profondo cambiamento sociale e prima ancora culturale che ha determinato un mutamento nella concezione nella percezione della famiglia e quindi dei figli da parte dei genitori probabilmente è anche vero il contrario dei genitori da parte dei figli e certamente poi invecchiamente caduta natalità hanno delle ricadute dirette anche sulla società che tipo di ricadute hanno? ma innanzitutto evidentemente una società che invecchia è una società che ha bisogno di più welfare quindi di più stato assistenziale una società che invecchia è destinata a vedere aumentare sicuramente non a diminuire la propria spesa a scopo sanitario è una società che vede aumentare delle percezioni di insicurezza necessariamente legate all'età avanzata è una società più in generale meno dinamica meno attiva con minor speranza rispetto al futuro con minor prospettiva il confronto con gli altri paesi europei come siamo messi siamo messi peggio? il confronto con gli altri paesi europei non è assolutamente deludente perché siamo in media abbastanza vicini ad alcuni degli altri paesi europei per esempio l'età media nei maggiori paesi europei ad oggi al 2016 ad essere più precisi era di 45 anni in Italia di quasi 47 in Germania di 41 in Francia la Francia sta meglio di noi ha una popolazione giovane e in lunga prospettiva nel lungo periodo questo divario aumenterà perché la popolazione francese è anche decisamente più stabile di quella italiana in quanto il numero delle nascite è molto maggiore il confronto devastante è con quello che succede in altri continenti tanto per capirci in Africa l'età media in alcuni paesi Nigeria 18 anni Etiopia 17,8 Mozambico 17 Uganda addirittura 15 nel Nord Africa e in Medio Oriente la situazione non simile ma molto diversa dall'Europa abbiamo in Tunisia un'età media di 32 anni in Marocco di 30 praticamente 29 in Egitto di quasi 24 in Iraq di quasi 20 evidentemente poi non ci possiamo stupire se c'è un afflusso di giovani in cerca di prima occupazione di prospettive migliori di vita in Europa a questo punto quali sono le prospettive per il nostro paese come potrà evolvere questa situazione le prospettive non sono rose perché se guardiamo per esempio all'età media in Italia nei maggiori paesi europei in prospettiva lunga nel caso dell'Italia oggi appunto l'età media è all'incirca sui 46 anni 45,9 nel 2030 si sposterà a 50,8 quindi 51 nel 2050 raggiungerà quasi 52 anni stessa situazione in Spagna situazione addirittura peggiore in Germania diverso il discorso per Francia e il Regno Unito in Francia oggi l'età media l'abbiamo detto è poco più di 41 anni nel Regno Unito 40 al 2050 sarà nel Regno Unito di 43 poco più e in Francia di quasi 44 in un paese come la Svezia rimarrà a 42 proprio in ragione del fatto che sia in Francia che in Gran Bretagna che nei paesi del Nord Europa l'età media è più bassa in quanto il numero delle nascite è maggiori ecco un paese il nostro quindi sempre più anziano e anche sempre più insicuro con il crescere dell'età media aumenta anche l'insicurezza percepita l'insicurezza percepita aumenta con l'aumento dell'età media perché naturalmente una popolazione anziana è una popolazione più indifesa o che si percepisce come più indifesa ma attenzione perché poi nelle valutazioni politiche la percezione è la realtà cioè non si può distinguere facilmente tra percezione e realtà per liberarsi del problema come dire della insicurezza il numero medio di figli per donna per donna fertile nell'Unione Europea tanto per capirci laddove in Francia è a due il che consente di mantenere stabile la popolazione nel Regno Unito 1,8 in Svezia 1,9 crolla ad 1,3 in Spagna ad 1,2 in Portogallo l'Italia è a 1,4 la popolazione italiana si sarebbe ridotta di 2,3 milioni di abitanti negli ultimi 25 anni se non ci fosse stato l'afflusso dovuto all'immigrazione molto interessante quello che ci sta dicendo il professor Bozzo anche perché accompagnato da numeri che parlano molto molto chiare che lasciano poco spazio alle interpretazioni allora perché non si fanno più figli in Italia il tema è più culturale o è legato unicamente alla crisi economica credo che influiscano entrambi i fattori indubbiamente la crisi economica pesa i paesi europei dove la crisi economica è meno forte è vero che in larga misura sono anche paesi dove è meno intensa la riduzione demografica però questo non è sempre vero per esempio il paese europeo che è praticamente il motore dello sviluppo europeo ovvero la Germania da un punto di vista di figli medi di numero di figli in media per donna fertile addirittura messo peggio dell'Italia avrà un tasso di invecchiamento superiore in realtà quello che incide molto da un punto di vista economico sono le forme assistenziali o le riduzioni in termini fiscali che vengono garantite alle famiglie con numerosi figli e da questo punto di vista il nostro paese non sta bene io credo che il problema oltre che ad essere di natura economica e ho cercato di spiegare poco fa perché non credo che sia solo di natura economica sia un problema di natura culturale e da questo punto di vista devo dire una cosa in assoluta franchezza se noi facciamo il confronto tra l'Europa del Sud l'Europa dei paesi cattolici e l'Europa del Nord l'Europa dei paesi protestanti ci troviamo di fronte a un panorama sconfortante perché l'Europa dei paesi cattolici è affetta da un drammatico crollo delle nascite e da una drammatica come abbiamo visto nel caso italiano riduzione del numero di matrimoni in particolare quelli religiosi perché quelli civili sono aumentati quelli religiosi in un ventennio si sono dimezzati dobbiamo interrogarci tutti sul perché di questa situazione è vero che la Germania costituisce una parciale eccezione perché è un paese diviso tra naturalmente popolazione protestante e cattoliche ed è un paese che ha visto una diminuzione demografica ma tutti gli altri paesi protestanti del Nord Europa vedono una diciamo così se non un aumento una condizione demografica stabile al contrario dei paesi cattolici quindi c'è un tema anche culturale però io per esempio faccio parte di una generazione di trentenni che deve quotidianamente lottare molto per costruirsi una famiglia per trovare un posto fisso il tema della disoccupazione giovanile in qualche modo è legato a questa denatalità a questo invecchiamento sì e purtroppo i dati della disoccupazione giovanile in alcuni dei paesi considerati sto pensando a Spagna innanzitutto Portogallo ma anche l'Italia ci sono regioni italiane dove la disoccupazione giovanile supera abbondantemente il 30% sono sconfortanti ed incidono chiaramente sulla difficoltà a cui lei faceva riferimento determinano quella difficoltà la difficoltà a formare una famiglia e di conseguenza la difficoltà a fare figli di figli ne nascono sempre di meno perché si fanno meno famiglie e spesso i figli oggi nascono in non famiglie in famiglie instabili oppure sono figli di coppie separate con tutti naturalmente i problemi anche di natura psicologica personale che possono seguire a questo tipo di condizione di situazione siamo anche in un periodo in cui va di moda l'antipolitica quanto è inciso la politica e le scelte sbagliate della politica in questa situazione? molto perché se guardiamo a un paese che possiamo considerare simile all'Italia da un punto di vista culturale in particolare e anche per vicinanza geografica ovviamente e persino da un punto di vista economico ovvero la Francia una politica molto attenta alla famiglia come quella francese unita naturalmente anche al fenomeno dell'immigrazione ha fatto sì e fa sì che la popolazione francese sia stabile e lo rimarrà presumibilmente nei prossimi decenni ai trend attuali questo non è avvenuto in Italia in Italia devo dire ancora una volta in assoluta franchezza che nel secondo dopoguerra molto poco è stato fatto per la famiglia anche se in particolare ad opera di certi partiti e di certi uomini politici molto si è detto sulla famiglia a favore della famiglia però alle parole i slogan sulla famiglia a livello politico sono sempre di moda una retorica alle parole non hanno fatto seguito i fatti e adesso ne paghiamo le conseguenze qualche più incisiva riduzione fiscale a vantaggio delle famiglie numerose come avviene per esempio in Francia dove le riduzioni fiscali sono notevoli all'aumento del numero dei figli una politica assistenziale migliore nei confronti delle madri delle giovani madri farebbe la differenza tra l'altro mi preme dire che in Italia l'età media della madre al primo figlio è salita a 32 anni e nel giro di pochi anni e il numero di madri ultra quarantenni è raddoppiato nell'arco di un biennio in questo senso sta aumentando anche tra l'altro la sterilità in Italia è un problema non è solo un problema italiano è un problema di tutto il mondo occidentale ma sì c'è questo problema di sterilità tanto maschile quanto femminile che a quanto pare stando agli ultimi dati che ho visto tocca oggi nel nostro paese una coppia su 5 quindi un 20% delle coppie il che non significa che il 20% delle coppie siano necessariamente sterili ma che abbiano dei problemi in materia di riproduzione quindi dei problemi in ordine a una possibile parziale sterilità un'Italia sempre più anziana rischia anche di essere sempre meno competitiva sullo scenario mondiale internazionale questo purtroppo lo stiamo vivendo in questi giorni certamente un'Italia più anziana è un'Italia oggettivamente meno dinamica come dicevo in apertura perché non ci si può attendere da una popolazione anziana il dinamismo la fiducia per il futuro la capacità di intraprendere tipici di una popolazione giovanile un'Italia sempre più anziana è un'Italia che dovrà spendere già sta spendendo molto in spesa sanitaria anche qui vi vorrei dare alcuni dati perché i dati poi ci consentono di fissare la situazione in maniera chiara nel 1995 il nostro paese spendeva in valori correnti in milioni di euro 48 milioni 229 mila euro in lire di allora ovviamente siamo saliti nel 2000 quindi in 5 anni a 68 milioni 237 mila nel 2015 due anni fa eravamo a 111 milioni 784 mila euro è la prima voce di spesa del budget pubblico italiano che per tutti gli sforzi fatti che si faranno nei prossimi anni per contenerla e non sarà facile in virtù appunto dell'invecchiamento dell'aumento delle necessità di una popolazione più anziana è destinata a rimanere quanto meno costante viviamo in un mondo in cui è fondamentale sapere quello che ci circonda non possiamo più stare e rimanere isolati nella nostra penisola felice in questo senso lei presiede un corso di laurea in relazioni internazionali studi europei che cosa proponete ai vostri studenti il nostro corso di laurea è uno dei corsi di laurea della facoltà oggi scuola secondo le nuove denominazioni di scienze politiche Cesare Alfieri di Firenze è la scuola di scienze politiche più antica d'Italia la seconda in Europa in Italia fu fondata nel 1875 la seconda in Europa dopo la Sorbonne di Parigi quella che ha sempre avuto il maggior prestigio il corso di laurea che ho l'onore il piacere di presiedere è il nostro corso di laurea magistrale quindi il biegno che segue al triennio iniziale di specializzazione più frequentato e che ha ereditato la grande tradizione del Cesare Alfieri proprio in materia di studi internazionalistici noi cerchiamo di offrire una preparazione a vasto spettro come è tipico della formazione delle scuole di scienze politiche in materia internazionalistica per preparare i nostri studenti per alcuni che lo vorranno tentare fare alla carriera diplomatica gli altri alle funzioni internazionali carriere nelle organizzazioni internazionali governative non così come nelle imprese che hanno relazioni interessi all'estero io ringrazio il professor Luciano Bozzo si sta per chiudere il nostro primo tratto di strada prima di salutarci però vi lasciamo con una piccola pillola che chiuderà ognuna delle nostre quattro puntate dedicata alla Morris Letizia il nostro focus sulla famiglia torna la prossima settimana arrivederci Papa Francesco appena nominato Papa eletto Papa eletto quindi Vescovo di Roma come si richiama e ha voluto subito inserirsi nella vita familiare sconosciamo le sue origini il suo impegno come cristiano e come religioso e soprattutto la sua vita come l'ha passata vicino alla gente quindi ha sentito il bisogno di stare sempre più vicino all'uomo e alla donna vicino a coloro che si impegnano a vivere secondo il Vangelo e quindi portare a questo messaggio di speranza e di gioia perché ha visto come la nostra società la quale ha cercato di ottenere o hanno promesso di dare tanto si ritrova povera povera di sentimenti povera di rapporto con gli altri in altre parole povera di amore ecco allora la sua preoccupazione è quella di conoscere e impegnare coloro che hanno la responsabilità pastorale ecco di venire e andare soprattutto incontro a tutti la necessità primaria era quella di considerare le difficoltà che i nostri cristiani e l'uomo e la donna hanno quando si costruiscono una famiglia e ha notato come purtroppo oggi dovuto a tanti fattori ma la famiglia è veramente ristrattata la famiglia è messa in terza categoria e quindi bisogna da veri cristiani andare incontro sempre più debole più poveri e in questo momento credo che abbia visto nei nostri fratelli che hanno fatto un tipo di scelta hanno seguito la loro vocazione ecco bisogno sia anche di una parola di un appoggio di una vicinanza da parte della chiesa proprio come cristiani come Gesù che è sempre andato incontro ai più deboli e difenderli aiutarli fare dare soprattutto a queste persone a questi nostri fratelli ecco la speranza e la certezza che il Signore è vicino e è Lui che ancora può dare un momento di gioia quella gioia che soltanto il Signore è venuto e ci ha donato e vi porto la pace la pace che Cristo porta al nostro cuore è una pace diversa da quella che promettono e dicono di darsi gli uomini questo credo che sia il pensiero che il Papa ha voluto esprimere a tutti quei fratelli nostri che sono in difficoltà e Grazie a tutti.